Transito difficile a Via Grande in Via Vittoria Emanuele, in modo particolare nel tratto tra Via Garibaldi e Piazza Urna. Potete vedere voi stessi anche attraverso le nostre immagini che si restringe il marciapiede e soprattutto alla mia destra c'è l'ingresso di un'attività commerciale proprio in prossimità di una curva. A rendere poi ulteriormente difficile il passaggio pedonale poco più avanti delle transenne per un'abitazione che è pericolante. Di conseguenza alcuni cittadini chiaramente si sono lamentati perché hanno delle difficoltà come anche noi in questo momento a poter passare lungo questo tratto stradale. L'amministrazione comunque già sta attuando degli interventi per poter risolvere nel minor tempo possibile la situazione e a spiegarci quali sono i progetti è stato il primo cittadino di Via Grande, Francesco Leonardi. Questa strettoia che in effetti dà qualche problema anche perché come avete avuto modo forse di vedere lì c'è una salumeria dove c'è tanta gente che entra e esce e purtroppo l'uscita di questa attività commerciale coincide proprio con la curva, quindi in piena curva per chi viene da via Garibaldi. È un problema di questi giorni che abbiamo dovuto adottare al momento in via cautelativa perché c'era una vecchia abitazione che risulta, presenta qualche crepa quindi può dare dei problemi alla cittadinanza quindi abbiamo al momento messo delle transenne per evitare proprio di camminare su quel marciapiede e l'ufficio tecnico ha già provveduto a mandare la diffida ai titolari proprietari di questa abitazione per poterla mettere in sicurezza. Per quanto riguarda il passaggio pedonale che ha creato qualche problema, fortunatamente ripeto non grossi problemi perché non abbiamo avuto mai delle denunce insomma lì al comando dei vicini urbani, stiamo cercando, ho cercato personalmente anche di avere un contatto con il titolare della bottega perché la soluzione più semplice può essere quella di veicolare un pochettino lì quindi di movimentare all'interno della stessa struttura l'entrata e uscita. Senta ma da parte del titolare della bottega c'è un'apertura comunque ad attuare delle modifiche per quanto riguarda l'ingresso e l'uscita? Sì assolutamente sì, parliamo di una persona molto molto sensibile a queste problematiche, una persona che c'è anche vicino insomma in tutti i sensi anche perché capite benissimo in paese si cresce insieme quindi abbiamo anche un rapporto diretto che esce fuori dal discorso politico ma anche perché lui stesso vuole un po' risolvere questo problema quindi io l'altra sera andando lì mi sono permesso di poter suggerire questa soluzione e ho trovato la sua più ampia disponibilità.